questa è la consolazione di vista, questa è tristissima, però consolazione si chiama è per eccellenza la cosa più speciale che ci sia perché quando sei da sola per esempio la musica capisce la solitudine quando c'è la musica non ci si sente mai soli, quando c'è la musica ci si capisce con gli altri cioè ti mette in contatto con le persone, anche quando non ci conosciamo, le persone non si conoscono con la musica sembra che si conoscano, se suonano insieme o se magari ascoltano la musica insieme sembra che si conoscano, è incredibile, gli esseri umani hanno inventato la musica per stare bene se sono triste appunto, ascoltano musiche tristi, se sono felice ascoltano le musiche felici cioè io mi accompagno anche io molte volte quando sono in viaggio in macchina, accendo la radio o il telefono e mi metto la musica cioè mi accompagna in modo che altre cose non riescono a fare fa sentire bene, mi tranquillizza ti tranquillizza è molto più potente la musica rispetto a qualsiasi altro intervento che ti puoi fare quando sei medicina può essere una musica, può essere una medicina buonissima però esiste anche musica inquietante la musica inquietante per esempio questo qua, vedete che c'è la direzione, non qua dentro ma in realtà la esorcizza in questo modo poi serve per fare la musica del film presente lo squalo è successo qualcosa? è un disastro però calma la musica c'è da tantissimo tempo, da quando esiste l'uomo forse c'è la musica perché non è nella natura, la musica l'ha inventata l'essere umano così come ha inventato la nuota ha inventato la musica il vento gli usignori cip 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 in realtà chi la sa il ritmo con cui fanno cip 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 è casuale è casuale per cui non può essere musica ma se invece cip cip è a ritmo regolare allora è musica la musica è speciale e il 20 aprile vi aspetto al Teatro Manzoni a Monza con l'orchestra all'euro moderata a Monza con l'orchestra all'estero